A San Gregorio di Catania compiuto l'avvicendamento in giunta dell'Equoterosa esce Loredana Nicotra, entra la 26enne psicologa Thea Francesca Zitelli un cambio già previsto che lascia inalterati gli equilibri politici nella giunta e nella maggioranza del sindaco Carmelo Corsaro la Zitelli avrà tra le sue deleghe pubblica istruzione, sport, cultura e politiche giovanili e a proposito di deleghe il sindaco Carmelo Corsaro ne ha approfittato e ha rimescolato anche i compiti per gli altri tre assessori rimasti il primo cittadino ha evocato a sé l'urbanistica alleggerendo il carico del suo vice Ivan Albo che resta il titolare dei lavori pubblici a Carmelo Chiarenza resta il bilancio e i servizi cimiteriali mentre Sebastiano Sgroi sarà l'assessore alle politiche sociali